vada partiamo adesso non esageriamo si può partire hanno messo in modo molto napoletano insomma non ho 7 un 7 è puro e ti scuta devi abbreviare bene guarda che è mappa lascia aperta e tu a non andare saltiamo difendi chi ha lucio vuoi piccare altro? se non io picco qua eh bu io tolgo un peso a tutti insomma qua gente quando vedete il furatore già se ne vaffanculo bello siamo noi con Reinhardt apposta ci manca solo un bastion comunque ho visto che è un lucio abbinato ad un un Zenyatta è micidiale nella squadra può pure tenere poco danno eh perchè il danno che ma il danno che fa Zenyatta è enorme nooo il fatto che metti il globo quell'altro più quello che cure cioè doppia cure guarda è micidiale eh ma quelli che stanno a fa' abbiamo una un'ana e mei un'ana dovemo stare ah no 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 buono ahno a tutti beh questa c'è la windows vista c'è questa ma se tenia la windows vista la crasha ogni 3 minuti ma come si fa dai 90 anni c'è la windows vista si tratta del 2010 forza forza sto facendo dei pallonetti bellissimi dobbiamo un Tracer evviva pietro 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 a me un ninja mi preoccupa attendo attendo sono Reinhardt dietro è morto Reinhardt ti sto giù, buttate giù, buttate giù ah no ok ti sto curando ho acceso Mckenzie chi è Mckenzie mo? ah costate Mckenzie, quelli vado non lo conosco ma guarda quella come mi ha fatto ancora Tracer, Anzo tutti qua a terra ah no che Anzo ma mi ha armadigendo vai Carnone tutti morti ho l'ulti per 6 secondi io già ce l'ho l'ulti la mia ultra si sta caricando l'erba cattiva hanno messo Ana c'è Kino ma io quello ninja, porco addio, fa un danno della Madonna eh 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 sì ma abbiamo problemino sì oh ho preso ho ucciso l'arciere Anzo nooo chi cazzo è dietro? Tracer devo mettere l'ulti no Mckenzie l'assopra mezzogiorno eh non è mezzogiorno ho dovuto uccidere Tracer ma l'ho trovata dietro con l'ulti che palla ma quella ninja guarda è una cosa assurda e quella ninja con l'ulti no allora si deve ammazzare quel il ninja a parte il ninja ma si deve ammazzare pure Cotto Junkrat è Tracer eh Tracer lassù come cazzo fai ammazzare venite a rimettervi mettere qua su che è? ecco guarda eh? che buco non ce ne ho ma fatti portare dal vittima ho 30 anni per passare ci vedi dietro Mckenzie eh dobbiamo mckenzie sta un casino ce sta ma che ho messo ninja con l'ulti che ganna per G via Zeniat sta oh no ho tenuto in giro io ho tenuto in giro mi avevo buttato 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 in giro eh eh io non so che vado diiii parra perché ok ma porca puttana oh ah vabbè io mi devo mettere a togliere questo eh lo devo togliere io di mezzo ah ma porca puttana ma 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 non si riesce a ammazzare ma io non riesco a ammazzare qui è una cosa terribile doveva ammazzarmi Tracer ah le vado a Zeniat eh si questa non ti serve ma capolata l'erba cattiva lo vuoi ma già sono da 13 oh ma questo c'ha di nuovo l'ulti mo l'ha fatta ma che ma sto ninja come ho fatta ne l'ulti che niente abbiamo perso ce l'hanno rotto eh no no ninja quello ti ti butta a terra una squadra sì ma il problema è che abbiamo abbiamo quell'ana che cazzo se perché l'ana avversaria più forte della nostra ma ma sempre là abbiamo sempre le persone di merda in squadra guarda là va spara a cazzo spara a cazzo poi noi non ne capiamo mai nessuno che ti ha boh è normale pure momoco si imbagnò l'ulti di sto ninja è terribile comunque c'ha un raggio non lo so è assurdo sì ma c'ha un raggio troppo alto no c'ha un danno troppo alto vabbè tanto mo lo devono fixare mo chissà fixare mo non si sa come però e in modo negativo positivo eh attacco di nuovo eh ma scusa non aveva fatto già abbiamo fatto difesa eh meno ma eh c'abbiamo anche primo levi eh eh di ah due ah un live war un levi ah così proviamo proviamo ah proviamo addirittura allora hai ucciso quell'uomo il padre di ora non mi aspetto qualche Torbjork che Tracer è vero combattere tra il tuo uno dei miei addievi migliori l'onore è misa ma ma c'è che la pace scendere sull'immunico che abbiamo visto vuotate la mente concentratevi sull'obiettivo quindi non stai con Gigan solo per quel motivo non si soddisfi sesso ciao l'attacco inizierà tra tre ninja un'altra volta eh no abbiamo tre livelli cento passati di lì Reinhard ma la sesta squadra è prima comunque eh e c'è Widowmaker e che culo proprio eh dubito me che coprerà qua sicuramente anche Ana c'è 2 kg? si ecco lì eh ci sta coso Jankrat ah Jankrat Ana sta sopra la ma porca ho colpa la testa nella base morto morto eh si ti possono ammazzare dentro la parte eh si ma una un colpo in testa com'è possibile no non è possibile anche Anzo noia no non è possibile ci sono rilassare un po' di rilassare un po' di non è possibile non è possibile che OH MERDA MERDA MI SO INCASTRATO QUALTA TU COSA MI SO INCASTRATO Chi è che cosa? Di voi? Dio porco lo devo ammazzare mo' qui noi Va vede? Nooo nooo Devo curare ma no Che cazzo Vaffanculo vai We'd have maker dietro la roccia Che stava n'ora quella la Eccolo qua Aie Attento 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 Giovane me dio si è andato andato Non è un po' manco c'è Eh l'ho ucciso però troppo tardi Ma cadene quel cazzo di cosa che fare i colpi pure capi? Eccolo Grazie Eccolo 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 Merda Nooo bomba in buca Via 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 Normal V after Ma noo curatrice Mancava solo quella C'è mancava Nooo stanno a quanto terra Porco Che due Che stanno venendo da dietro E voi sono entrati nella casa Tutti Eh 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 sono venuti tardi ed è morta pure la Luce, già luce. non vengono da dietro guarda quest'altro, guarda quest'altro, guarda quest'altro, ma che stanno a guardare? c'è una anna fuori eh? eh anna, mica solo, c'è anche anna male male c'è una fatta reina no, no no, vabbè ma quel jungle là sopra non... avanzate, tanto c'ho l'ultis e qualcosa via 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 è morto, è morto quel jungle là ma è qui, ma è qui preso senta stanzi ma che è vinto, è vinto, è vinto vabbè abbiamo perso la difesa, abbiamo vinto la stanza muorì guarda non un rimasto nooo addirittura fermatelo eh si ah, ho lurti sanno che non abbiamo preso un lanzo H c'è anche rabbia, quando lo uccide il meglio che scappe, non c'è sta vicino ok il mio genio viene veramente riconosso l'eccellenza è una ricompensa diversa 42 eh fatto faccio anche lo screen